Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Sì, c'è prima di tutto una falsità fattuale, nel senso che non erano dei pensionati, ma era un battaglione che comprendeva persone armate inquadrate sotto il comando delle SS. Gli altri due battaglioni collegati operavano nel nord-est italiano contro i partigiani, con azioni continue contro i partigiani, e non erano affatto pensionati. Erano tra i 23 e i 43 anni armati di machine pistole e di bombe, quindi le informazioni che sono state date dalla Russia sono sbagliate. Poi c'è un giudizio storico che è sbagliato, perché si parla della relazione che indubbiamente c'è tra l'attentato di Via Rasella e la rappresaglia feroce delle Fossardatine, con 335 morti, 5 in più per un calcolo sbagliato da parte probabilmente del capitano Pripke che teneva l'elenco del disonore delle persone chiamate a 5 per volta, fatte inginocchiare e uccise con un colpo alla nuca. Tutto questo senza tenere presente che l'Italia era sotto occupazione, i tedeschi stavano occupando Roma, eravamo in periodo di guerra, e la resistenza che c'è stata con le azioni dei partigiani è quello che rende la democrazia italiana non concessa interamente dagli alleati che hanno risalito la penisola, non octroie, non costruita a tavolino, ma in parte riconquistata proprio dagli atti di ribellione degli italiani, dei partigiani, nei confronti degli occupanti e dei fascisti che li aiutavano. Li hanno aiutati anche per le fosse ardeatine, perché i fascisti hanno contribuito a formare l'elenco degli antifascisti, e non genericamente degli italiani, come dice la Meloni, degli antifascisti che sono stati giustiziati alle fosse ardeatine. Allora, Francesco Specchia.